A NostiV quest'oggi ci occupiamo di medicina turistica con i nuovi ambulatori a Duna Verde d'Eraclea a mare e poi ci occuperemo del progetto delle sentinelle del mare e per voi un'intervista esclusiva con una nonna di 103 anni. Tutto questo e molto altro nel nostro notiziario. Ben ritrovati dalla redazione di NostiV, apriamo questo nostro notiziano con una notizia di cronaca nera. Una tragedia della strada si è consumata questa mattina alla confine tra Cessalto e Ceggia nel territorio trevigiano di Cessalto. Erano circa le 7 quando un pedone, un anziano di 68 anni, Eligio Rebecca, residente in zona, è stato travolto da un autonome mentre stava camminando a bordo strada. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento da parte dei carabinieri. L'auto, una Renault Clio, era condotta da un operaio di Musile di 56 anni. Voltiamo decisamente pagina e ci occupiamo di sanità, in particolare ci occupiamo di medicina turistica perché a Duna Verde, ad Eraclea a mare, questo fine settimana saranno inaugurati due ambulatori medici diurni. Ma ascoltiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. A partire da domenica 23 giugno saranno attivi due ambulatori diurni per turisti ad Una Verde ed Eraclea a mare. Questa iniziativa si inserisce nel consueto programma di potenziamento dei servizi sanitari offerti dall'Ulss4 durante il periodo estivo. I due ambulatori rimarranno aperti tutti i giorni fino al 31 agosto ad Una Verde in Piazza Spalato dalle 10 alle 11 e ad Eraclea a mare in via D'Ancalia dalle 8.30 alle 9.30. Qui gli ospiti delle due località potranno avere accesso a prestazioni ambulatoriali di medicina generale. In situazione di impossibilità di recarsi in ambulatorio sono previste anche visite domiciliari in orario diurno. In entrambi gli ambulatori saranno presenti interpreti che agevoleranno il dialogo tra i medici e i pazienti di nazionalità straniera. Salva guardare l'ambiente monitorando le acque, verificandone lo stato di salute e catalogandone flora e fauna marina. Il tutto con l'aiuto di cittadini e operatori di categoria. E' quanto si propone il progetto Sentinelle del Mare ideato dal Dipartimento di Scienze Biologiche dell'Università di Bologna. Per la prima volta il progetto approda anche sulla nostra costa grazie all'organizzazione e all'accoglienza di ConfCommercio Unione Metropolitana di Venezia e di Union Mare Veneto. Saranno Bibione ed Eraclea, oltre che Chioggia, a ospitare la biologa Arianna Antezza. La presentazione del progetto si è svolta in occasione del Salone Nautico di Venezia. Ma sentiamo le interviste. Sentinelle del Mare come progetto di Citizen Science che viene fatto in collaborazione con l'Università di Bologna, in particolare il Dipartimento di Biologia. Nel 2018, quando abbiamo cominciato questa collaborazione, ha avuto in estate 23 stazioni di rilevamento. Nel 2019 siamo a oltre 50. E' un grande successo quindi non solo di pubblico e di luoghi dove l'attività di ricerca e di monitoraggio si svolge, ma dei sistemi che l'hanno accolto, non solo del nostro sistema con commercio, con turismo, ma proprio di tutti gli operatori. Devo dire che la più grande rivelazione proprio del 2019 è questa. Entusiasmo perché si può fare business e si può fare ecologia divertendosi e implementando qualcosa di nuovo anche nelle proprie attività economiche. Se dovessi pensare al mio interesse personale, spererei che questo progetto mantenga nel 2020 le stesse dimensioni che ha oggi, nel senso che è difficile gestire così tante attività sul territorio nazionale. In realtà spero l'esatto contrario, non solo in termini di numero di stazioni di rilevamento, ma proprio in termini di iniziative che sono sempre più belle e sempre più ricche. Io mi aspetto che i partecipanti a questo progetto abbiano due pensieri. Uno, che giocando, divertendosi con la scheda a trovare delle specie, capiscano in noce qual è il valore dell'ambiente all'interno del quale fanno la loro vacanza o fanno le loro attività quotidiane. Questo è lo scopo ufficiale del progetto. L'altra cosa che mi aspetto è che capiscano che esiste un mondo di operatori, che è il mondo operatori economici, il mondo di concommercio, di conturismo, delle associazioni che fanno parte di questo sistema, che è un mondo che riesce a coniugare business con capacità di tutelare l'ambiente e che non è così difficile contemperare i due interessi, perché in realtà non sono contrapposti. Siamo orgogliosi oggi di aver presentato in questa splendida cornice dell'arsenale di Venezia il progetto delle Sentinelle del Mare, che approda nel 2019 in esclusiva sulla costa Veneta. È un progetto che Unio Mare Veneto coordina su indicazione di confturismo nazionale, che abbraccerà idealmente tutte e dieci le località della nostra costa, ma la Sentinella del Mare, la Dottoressa Antezza, poi svolgerà le sue funzioni a Bibione, iniziando già da domani, per poi spostarsi ad Eraclea, nella parte centrale della costa, per terminare poi il periodo dagli amici di Chioggia ai primi di luglio. È un progetto molto importante, che ha ottenuto riconoscimento dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Veneto. È un progetto che parte dal concetto di sostenibilità ambientale, proprio per legare l'attenzione di questi temi all'offerta turistica ed è uno strumento che noi utilizzeremo per targettizzare sempre di più la nostra proposta per poter dare agli ospiti che frequentano le nostre località balneari sempre il miglior servizio possibile. È un traguardo importante quello che ha raggiunto Giovanna Bortoli, originaria di Cinto Cao Maggiore, che ha compiuto oggi la bellezza di 103 anni di età. Ma sentiamo l'intervista. Giovanna Bortoli è nata al 20 giugno 1916. Mi ha detto che c'è 103 e non so cosa fare. Perché non le toco, perché come dice, arrivai. E arrivai per conto mio. Non so altro che ringraziare il Signore che mi ha saluto fino adesso. E adesso faccio quel che posso e quel che non posso resterà da fare. Oggi festeggiamo i 103 anni di Giovanna. Ormai è diventata una tradizione. Già durante il mio mandato ho avuto modo di festeggiare i 100. E ogni anno abbiamo rinnovato finora il compleanno di Giovanna. E' l'anziana più anziana del nostro comune. A Giovanna e a tutta la famiglia che le è stata vicino, un grande abbraccio, un augurio per il prossimo anno. Così ci troveremo a festeggiare i 104 anni. Voltiamo pagina, oggi occupiamo di spettacoli ed eventi e ci spostiamo nel San Donatese. Il Fiume Festival anticipa e inaugura l'estate sannonatese. La Kermess, promossa da comune e da musei civici sannonatesi, quest'anno si terrà infatti a inizio luglio e non più a settembre. In città sono artesi altristi in portanti da Paolo Rossi a Susibledi fino a Filippo D'Averio. Ma sentiamo il programma nel prossimo servizio. La sesta edizione del Fiume Festival sarà quest'anno all'insegna del viaggio. E' questo il tema della Kermess, proposta dalla città di San Dona di Piave, che si articolerà fra il 3 e il 7 luglio a cura dei musei civici sannonatesi. Dall'originaria collocazione a settembre, il festival diventa uno dei nuovi appuntamenti dell'estate sannonatese, inaugurando il mese di luglio. Molti gli appuntamenti in programma, tra cui 5 ad ingresso gratuito, organizzati in collaborazione con il circuito teatrale Alteven nell'ambito di Reteventi 2019. Si parte il 3 luglio alle 21 in Piazza Indipendenza con Paolo Rossi in odissea di un racconto mediterraneo, la maga Circe Canto Decimo. Il 4 luglio alle 19.30, nel lanza della Piave Vecchia a Chiesa Nuova, Igor Chierici in La leggenda del pianista sull'oceano. Mentre alle 21.30 in Piazza Indipendenza, Diego Basso propone il concerto Fly Me to the Moon. Il 5 luglio alle 21 in Piazza Indipendenza intervista con Susie Bledin, misteri per caso in giro per il mondo, mentre il 6 luglio, sempre nella cornice della Piazza Centrale di San Dora di Piave, arriva a Filippo D'Avedio con il Grand Tour d'Italia a piccoli passi. In caso di maltempo, gli spettacoli si svolgeranno all'auditorium del Centro Culturale da Vinci fino ad esaurimento dei posti disponibili. Solo il concerto Fly Me to the Moon verrà spostato invece il 7 luglio in Piazza Indipendenza. Gli spettacoli saranno accompagnati da molti altri appuntamenti durante il festival, attraverso una rete di collaborazioni con altri soggetti. Da segnalare il 5 e 6 luglio, la notte bianca proposta in doppia versione dall'ASCOM. Il Museo della Bonifica propone inoltre in anteprima al festival il primo dei due spettacoli e di scena il museo. I personaggi della storia escono dai cartelloni e prendono vita per raccontare le loro vicende e quelle del territorio. L'appuntamento giovedì 27 giugno alle 21. E dal 24 al 27 giugno alle 21 la terrazza della Pala Invent di Jesolo ospiterà il Festival del Cinema Russo, giunto quest'anno alla sua settima edizione. Il festival è realizzato dai Ministeri della Cultura e Affari Esteri della Federazione Russa con il sostegno dell'assessorato al turismo della città di Jesolo. Il festival propone 4 giorni di proiezioni con film russi di alto spessore in lingua originale sottotitolati in italiano. Un'occasione di scambio culturale per approfondire le conoscenze delle produzioni cinematografiche della Federazione Russa. E questa era anche la nostra ultima notizia. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi ricordiamo che NoStv è disponibile su Facebook, YouTube e Instagram e sul canale Il13TV, disponibile sul tasto 13 o 605 del vostro telegomando. Dalla redazione di NoStv un grazie per l'ascolto e un arrivederci alle prossime edizioni. Dalla redazione di NoStv un grazie per l'ascolto e un'ascolto e un'ascolto e un'ascolto e un'ascolto e un'ascolto e un'ascolto.